Con sicurezza, con tutti i protocolli che voi ci avete dato, da mercoledì 10 le nostre attività saranno aperte non solo per il pranzo, ma anche per la cena. Non è una mancanza di rispetto, ma è una voglia di continuare a vivere, di produrre ricchezza, di dare forme di socialità di cui i nostri cittadini hanno bisogno.